Nelle cinque province ad oggi sono censiti attraverso le questure, quindi regolarizzati, 2.230 cittadini ucraini, di cui la metà minori, quindi la maggior parte sono minori, tendenzialmente mamme con bambini piccoli. Di questi 2.230 ci tengo a dire che solo 120 sono ospitati in strutture messe a disposizione dalla prefettura. Cosa significa questo? Che la maggior parte, oltre 2.000, sono ospitati in maniera occasionale sui territori, da amici, parenti, conoscenti, alcune associazioni, alcune parrocchie. Perché ci tengo a dire questo? Intanto per ringraziare del grande cuore e grande ospitalità, però per fare un richiamo anche al fatto che chi ospita in maniera occasionale, intanto ad oggi, ai noi, non ha ancora diritto da alcun ristoro ad oggi. Io l'ho fatto presente anche ieri alla Protezione Civile Nazionale che secondo noi occorre attivare un sostegno verso chi ospita. Speriamo di ottenerlo da qui ai prossimi periodi. Però è importante ricordare questo perché io temo anche una presenza sul territorio superiore a quella che noi conosciamo, cioè di persone che ospitano ma non hanno ancora regolarizzato queste persone. Ecco io faccio un richiamo, la prima cosa da fare è recarsi alla Questura e regolarizzare la posizione degli ospiti. Perché questo gli dà possibilità di accesso alle cure sanitarie, al tampone Covid ed anche poi successivamente alla scuola per i minori che vogliono frequentare le nostre scuole. Quindi è fondamentale regolarizzarsi. Adesso non voglio enfatizzare questa cosa ma una persona che arriva dall'Ucraina, cioè paese extracomunitario, extraeuropeo, vuol dire anche non essere regolarizzato, ho detto brutalmente essere clandestino nei nostri territori. Non incentiviamo questa situazione anche perché regolarizzarlo vuol dire dargli diritto alle cure, alla scuola e anche capire se magari c'è all'interno qualche caso di positività al Covid, a volte possibile, a volte anche riscontrato.